La vera controffensiva delle truppe ucraine è rinviata a data da destinarsi. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, è necessario ancora un po' di tempo, perché la consegna di attrezzature e armi degli alleati occidentali sta continuando. Lo stesso Zelensky ha sottolineato che il successo dell'operazione dell'intera guerra sarà facilitato da qualunque aiuto militare possa essere fornito dagli alleati. Gli analisti occidentali non escludono tuttavia che la dichiarazione di Zelensky voglia far falsamente credere a Mosca una controffensiva ritardata. La controffensiva in itself è un processo lungo termine e io credo che il fatto che la controffensiva dell'Ucraina ha già iniziato. Ciò che stanno cercando di fare è formare il battlefield, stanno portando le forze russie in diverse direzioni, stanno cercando di trovare le spalle, stanno provando, stanno portando le forze. Recentemente il Regno Unito ha dichiarato che invierà all'Ucraina missili tattici con una gitta alta di diverse centinaia di chilometri. Grazie a tutti.